Allora, siamo negli anni 70, un gruppo di allevatori americani fanno causa al sistema bancario, circuito bancario, perché il circuito bancario, perché tutte sono compartecipate, ognuno è compartecipato e tu devi pensare che la Banca d'Italia è compartecipata al 51% da Intesa San Paolo e Unicredit, questo può andare su internet, anzi tutto quello che io dico. Quindi i privati dominano anche lo Stato, andiamo avanti. Il Ministero del Tesoro è iscritto alla SEC americana, sai com'è? È un'azienda privata pure quello, ma anche tutte le forze dell'ordine, tutti gli istituti sono iscritti alla SEC. Quindi loro cominciano questa causa molto grande per frode bancaria che comincia a dare il via a un rimpallo tra avvocati. Si chiude, poi si archivia, poi arriva il presidente dopo della US Corporated americana, quindi quattro presidenti ci sono voluti, 30 anni, per arrivare all'11 settembre 2001, quando nell'edificio 7 all'interno dei server della CIA è stata registrata la sentenza di quella famosissima denuncia che chiudeva tutto il sistema bancario mondiale e restituiva quei famosi oro alla patria del 1930. Quando? L'11 settembre? Lì al 144esimo piano del World Trade Center sarebbe avvenuto la sentenza, sarebbe stata data la sentenza e quindi chiuso il sistema bancario mondiale. Quel giorno lì al World Trade Center, l'11 settembre? Non se ne sapeva nulla però. Assolutamente no. Però c'era chi sapeva evidentemente. Assolutamente sì. Cioè tu devi sapere che io questa cosa l'ho saputa direttamente dalla bocca di un ammiraglio nel 2013 quando in un convegno dove io sono il primo convegno di OPPT a Fiumicino, questo ammiraglio che poi io non ho neanche più il contatto ad oggi, non so manco più se c'è, non c'è, lui ci ha raccontato proprio in questo convegno, e quindi ti chiamo a testimonianza chi era con me, che lui doveva partire per l'America quella mattina per andare lì a presenziare per l'Italia, perché poi tutte le nazioni avrebbero dovuto adeguarsi. Era un ammiraglio italiano? Sì sì era un ammiraglio italiano, dovevano adeguarsi tutte le nazioni a Nesara, Gesara, così si chiama. Nesara, Gesara, certo, certo. Questo è Nesara, Gesara. Io ho parlato dell'ammiraglio della Marina Italiana. Ah ecco allora ci sarà di dire... Ne so un po' di cose. Eh sì. Ma non me le dice. Eh sì, anche su questo sono d'accordo. Devo farlo un po' bere. Dai, portavi a casa un bicchiere di una bottiglia di vino. Sta da comando della Nato. Ah allora le sa tantissime di cose, tu papà, molte, moltissime. E quindi le torri gemelle vengono giù, il settimo edificio viene giù e lì si perdono le tracce di Gesara e Nesara. Gesara e Nesara, giusto. Ah.